L'utilizzo di veicoli con batterie agli ioni di litio può rivelarsi molto rischioso. Questo a causa del possibile incendio dovuto all'innalzamento di temperatura della batteria stessa. Controllare un fuoco di questo genere non è facile, anche perché si determinano microesplosioni dovuto all'aumento di pressione interno alla cella della batteria. L'uso del classico estintore a polvere risulta pressoché inadeguato, determinando una continua riaccensione della batteria, nonché l'immissione in ambiente di un quantitativo di inquinanti molto importante. Per cui esiste un estintore idoneo per batterie agli ioni di litio? Ebbene sì, è un estintore idrico ad acqua, che utilizza un estinguente a schiuma ad alta capacità detergente disinquinante, il BioVersal. Questa nuova tipologia di estintore, oltre ad essere utile su batterie con energia di 750 wattora, è utilizzabile anche su fuochi di classe A, B, F e su impianti elettrici fino a 1000V, essendo un di elettrico. L'azione che compie è quella di diminuire la temperatura e controllare l'eventuale riaccensione della cella della batteria. Testato su batteria a 36V può essere un'utile alternativa. Se il video ti è piaciuto, metti un like e segui la pagina per restare aggiornato. Grazie a tutti. Grazie a tutti.